e bentornati in questo nuovo podcast e oggi parliamo di un'attrice che molti di voi conoscono ma non in veste di attrice ma oggi non è volevo far l'attore oggi è non volevo far l'attore e oggi parliamo di Mara Povoleri meglio conosciuta come Mara Venier che nasce a Venezia il 20 ottobre 1950 come abbiamo detto pochi la conoscono a livello di attrice forse i più grandi celli le persone più grandi le più adulte riescono a ricordare cosa ha fatto in passato beh Mara Venier è stata uno dei simboli della commedia sexy all'italiana anche commedia erotica se vogliamo allora Mara Venier ha cominciato la sua carriera ad attrice con Diario di un italiano di Sergio Capogna nel 1973 diciamo che qui non ha conosciuto il successo ma è stato il lancio che ha cominciato a dare il là alla sua carriera Mara Venier essenzialmente non ha caratteristiche particolari a livello di attrice se non che era una bella donna anche se è molto diversa perché è possibile notare i cambiamenti fisici dovuti alla chirurgia del naso degli zigomi delle labbra rispetto al passato non è una questione di invecchiamento sarò sincero ma basta vedere le immagini come c'è un cambiamento netto chiaro rispetto al passato ha lavorato con registi importanti anche come Ugo Tognazzi nel 1976 con cattivi pensieri e poi essenzialmente il connubio col marito perché è stata sposata con Gerry Calatra il 1984 e il 1987 diciamo così ha sviluppato il suo lato del sexy per la commedia sexy all'italiana anche se in mi preme dire che questi sono i cosiddetti archetipi dei cinepanettoni che ancora non si facevano nel contesto natalizio per esempio un ruolo importante di commedia sexy all'italiana lo fa sotto la regia di Nanni Loi con testo croce e al fianco di Renato Pozzetto anche è un film che ho visto per caso ci tengo a dire che l'ho visto per caso è al bar dello sport con la regia di Francesco Massaro insieme al prossimo perché era il 1983 marito che sarà Gerry Calatra ha avuto altre relazioni con altri personaggi conosciutissimi come Renzo Arbore attualmente è sposata con un produttore cinematografico quindi comunque è rimasta legata all'ambiente almeno attraverso un verso in un modo o nell'altro e soprattutto Maravenier e sarà strano magari sentirlo sentirselo dire è stata diretta da un premio Oscar sicuramente molti di voi ci ricorderanno di Mediterraneo premio Oscar di Gabriele Salvatores Salvatores ha diretto Maravenier in Kamikazzen ultima notte a Milano quindi può anche tranquillamente affermare di essere stata sotto la direzione artistica di un premio Oscar e quindi strepidoso ma ha lavorato anche con Vittorio Desisti in Delitti e Profumi nel 1988 diciamo gli anni 80 sono gli anni in cui Maravenier comincia a essere conosciuta soprattutto viene conosciuta nel 1980 con Zappatore ci sarà anche Mario Merola sicuramente alcuni di voi conosceranno la canzone famosissima e da largo spazio poi al neomelodico che conosciamo oggi e su cui vorrei vorrei evitare di parlarne per favore se ne parlo dico cose che non c'entrano niente ritroviamo Maravenier come attrice che interpreta se stessa sotto la regia di neri parenti nel 1998 con paparazzi allora a me paparazzi piace magari a qualcuno non andrà giù chi a me paparazzi piace però è simpatico divertente almeno per me che nel 1998 avevo cinque anni era divertente anche oggi se lo rivedo lo rivedo con piacere ma che sei da latina direbbe qualcuno quindi paparazzi però interpretare se stessi in un film diciamo così non ti dà la possibilità di essere giudicato positivamente ma neanche negativamente sei ingiudicabile sotto con l'aspetto e credo che anche sempre sotto la regia di neri parenti in vacanza di natale a cortino di a cortina maravenier interpreti di nuovo se stessa e io che cosa devo dire di una persona che negli ultimi anni ha quasi sempre ha interpretato se stessa nelle sue ultime pellicole non lo so è tornata a lavorare con l'ex marito gerry calan nel 2011 nel 2008 scusate con torno a vivere da solo film che non conosco e non credo che recupererò se qualcuno di voi lo guarda me lo dica e mi faccia sapere e poi l'ultimo film in cui vediamo maravenier è pecore in erba di alberto caviglia dal 2015 non conosco alberto caviglia non conosco pecore in erba non posso dare un parere su questo film ma per fortuna la carriera cinematografica di maravenier si è fermata diciamo che più o meno ha fatto quasi sempre gli stessi ruoli essendo stata comunque una bella donna ha avuto il suo spazio anche in questo non riesco a giudicarla come attrice sinceramente non so veramente cosa dire però come conduttrice posso affermare che quando ha avuto successo per la prima volta che ha cominciato a condurre domenica in sul rai 1 ed è tornata la sua conduzione nel 2018 attualmente lo è ancora forse possiamo trarre qualcosa di positivo perché è empatica con gli ospiti col pubblico e sinceramente vi ringrazio per aver ascoltato questo podcast perché era veramente difficile seguire seguirlo sentirlo quindi ciao mara grazie per far televisione e non più cinema grazie davvero col cuore